Bentornati ragazzi sui due terzi, oggi siamo tornati su un video su Overwatch per parlare di questo nuovo personaggio La fantastica Moira Moira era un agente della Blackwatch e adesso attualmente della Talon, quindi è una cattiva diciamo È un healer, ed è un healer a parer mio straordinario, è un healer incredibile che non dico che sia il più forte Però è uno dei, che forse diventerà uno dei più utili, diventerà fondamentale forse Adesso gli healer per eccellenza sono Lucio o Ana, ma questa Moira secondo me verrà molto usata Comunque dovremmo vederlo, lo vedremo presto nel competitivo come si evolverà questo personaggio Allora Moira è una scienziata, usa l'ingegneria genetica per attaccare, per curare i propri compagni E come state vedendo tira questi due raggi diversi dalle mani, uno per curare appunto una specie di spray e uno per far danni E anche l'abilità di teletrasportarsi è quella di creare dei globi, un globo per curare e un globo per far danni Questi globi possono ricordare quelli di Zegnatta ma sono abbastanza diversi Allora la prima abilità di Moira è quella di sparare con uno spray, una specie di spray che funziona più o meno come quello della pistola di Mei Questo spray prende a lunghe distanze circa penso 15 metri e fa 80 cure al secondo più altre 50 nei 3 secondi verso la fine delle cure E può curare ovviamente contemporaneamente diversi compagni vicini L'arma secondaria invece è un raggio che prende più o meno da 20 metri di distanza Non è tanto forte perché fa 50 danni al secondo Però a cosa serve più che altro? Serve ovviamente per cercare di difendersi in situazioni difficili Ma serve più che altro per curarsi da soli Perché Moira si cura unicamente attraverso i danni che infligge agli avversari E facendo questi danni 50 al secondo abbiamo detto con il tracking che funziona un po' come il raggio di simmetra Cura a se stessa per 30 cure al secondo Oltre ad autocurarsi i danni agli avversari servono per ricaricare lo spray, la propria cura Infatti le cure di Moira non sono come il raggio del bastone di Mercy Infatti ha bisogno di essere ricaricato Un po' come la, possiamo dire, la Matrix di D.Va Che a un certo punto inizia a scaricarsi e ha bisogno di essere caricata Un'altra abilità di Moira sono appunto questi globi Che con il tasto destro tirerà un globo negativo, tra virgolette Che infliggerà danni a due nemici contemporaneamente Questo globo rimbalzerà sulle superfici che incontrerà e farà fino a 200 danni fino a poi scaricarsi appunto Però quindi può viaggiare, è molto facile da schivare, quello si Però viaggia attorno all'area, è utile da usare nelle zone chiuse E farà appunto questi danni extra E anche questi ovviamente ricaricano la barra della cura di Moira E ricaricano anche la propria vita Invece col tasto sinistro si tirerà un globo che appunto cura due persone contemporaneamente E cura fino a 300 cure E cura anche se stessi tra l'altro Se si è uno dei due target E anche questo ovviamente funziona come il globo negativo Rimbalza nella zona fino a scaricarsi a 300 cure fatte, fornite L'ulti è tipo una mega onda energetica che fa cure e fa anche danni Per la precisione 150 cure al secondo e 70 danni al secondo per 8 secondi E' appunto un'onda energetica che prenderà chiunque sia nel raggio di azione Questa super onda energetica va dritta in orizzontale Quindi a seconda di come spostate la visuale questa si sposterà Non ha curve strane, va proprio dritto per dritto Ops, non vi ho parlato della seconda abilità di Moira E' un teletrasporto che farà appunto trasformare Moira in uno spirito Un po' come il teletrasporto di Reaper Però molto più breve Infatti dura più o meno un secondo Però Moira si sposterà molto più velocemente a seconda della direzione che sceglierete voi Ovviamente sarà immune da qualsiasi colpo per quel breve lasso di tempo Moira però potrebbe essere un target un po' semplice da sconfiggere Ad esempio con l'ulti di Genji Secondo me è davvero dura fuggire Anche se si usa il teletrasporto che fa pochi metri alla fine Farà 15 metri penso E' davvero difficile Bisogna stare un po' come Lucio Attaccati al proprio team Un po' come alla fine tutti gli healer Non sono così difensivi Però bisogna stare vicino anche Principalmente perché Il suo raggio Il suo raggio di cure non è così distante Le cure curano appunto Fino a 15 metri di distanza Invece i danni ai nemici a 20 metri Quindi è un po' così Bene questa è Ram Moira Un healer che secondo me è strepitoso E davvero fantastico E ce ne farà vedere delle belle nel competitivo Anche le sue skin sono fantastiche Anche i colori alternativi Quelli da solo 75 monete I comuni diciamo Sono bellissimi Di solito i colori alternativi Non sono così belli come gli originali Invece in questo caso Sono davvero fantastici Fantastici E poi c'è Queste skin Anche quelle rare Barocco e pallore Sono bellissime Non penso si pronunci pallore Però Anche questa Oasi Anche glam Sono tutte fantastiche Anche l'ultima Che adesso vi farò vedere Eccola qui Luna Cioè E' straordinaria E' molto Molto teatrale Sembra Un'attrice teatrale E qui moira Quasi Bene Per questo personaggio Solo per oggi Perché lo vedremo Probabilmente In qualche partita E' tutto Noi ci vediamo alla prossima Sempre qua sui due terzi Ciao